Ci fa un po' impressione che si parli di guerra solo adesso perché in Siria la guerra dura da più di un anno, forse due, quindi la situazione era già difficile prima per i civili presi in mezzo tra il governo di Assad e le truppe ribelli. Quindi quello che cerchiamo di fare è incontrarli, incontrare i profughi che sono quasi un milione in Libano e umanamente vedere cosa è possibile fare. Sicuramente c'è un po' di preoccupazione da parte nostra e diciamo che ci spinge l'idea che la vita nostra vale come quella degli altri, non poco come quella di chi vive nelle guerre ma tanto come quella di chi vive nelle guerre. L'unico modo per dirlo con i fatti è quello di stare vicino a queste persone. La Siria è in un posto estremamente delicato come se si ammala un braccio, se si ammala il cuore. La Siria è un po' un cuore perché è al centro di tanti interessi, è una zona estremamente delicata, quindi potrebbe significare un cambiamento in positivo per tutto il Medio Oriente oppure potrebbe significare un aggravamento di tutta la situazione dell'area. E domani è una giornata particolare, una giornata per dire no alla guerra? È una scelta molto coraggiosa, è un atto molto coraggioso da parte del Papa e credo che se la Chiesa fa come sta facendo, una scelta chiara nel dire no alla guerra in ogni forma, nella forma della vendita delle armi, nella forma dell'attacco ai civili, il conto alla rovescia che porta alla fine della guerra è più vicino. Un giorno la guerra uscirà dalla storia e speriamo che quello che sta succedendo adesso sia un passo in quella direzione.